ciao a tutti sono simone ghisio 21 anni e sono uno studente del corso my live un corso di marketing organizzazione fiere eventi e congressi organizzato dalla fondazione fiera milano e ho scelto questo corso perché ero sicuro che la fondazione fiera milano potesse darmi tutte queste capacità per affrontare il mio futuro nel mondo degli eventi e delle fiere facendomi crescere sia professionalmente sia personalmente il corso è stata un'esperienza fantastica a partire dalle dalle materie che vengono toccate e soprattutto dai compagni del corso di studio che vengono scelti molto accuratamente dal gruppo fondazione fiera milano dopo il periodo di studio sono stato indirizzato verso uno stage io ho fatto uno stage di sei mesi al gis che è la società italiana di cardiologia interventistica e mi occupo personalmente della della gestione dei contenuti della comunicazione pre in corso e post congressi ed eventi a cui partecipa la società e mi occupo anche della della creazione dei contenuti che poi vengono inseriti sui social network e sul sul sito dell'azienda lo stage è stata un'esperienza fantastica e oltre al corso lo stage mi ha permesso finalmente di entrare nel mondo del lavoro e crescere finalmente nella mia carriera professionale